Alessandro Preziosi è la voce narrante del docufilm Amazonia, che racconta le fantastiche avventure della piccola scimmietta Sai alle prese con un habitat apparentemente inospitale, la foresta amazzonica. Per celebrare la giornata delle foreste sarà possibile goderci la visione di questo particolare documentario in versione DVD, Blu-ray e Blu-ray 3D. Il film ci catapulta insieme alla scimmia cappuccino Sai nella foresta amazzonica e questo è una specie di viaggio, di scoperta sensoriale, un viaggio intenso, divertente, a tratti quasi commoventi. Ed è un film da vivere che evidenzia il nostro naturale vincolo con madre natura, insomma un evento da non perdere. Ora il mio lavoro è stato diverso dal solito, insomma io non sono qui in veste di doppiatore, ma di narratore, di persona che appartiene al mondo, di persona che vede il mondo, che sente il mondo e che lo vorrebbe sempre uguale, così come lo vedete in questo film, in questo meraviglioso documentario. Grazie a tutti. Grazie a tutti.